salve cari amiche benvenuti nel mio nuovo interattivo oggi questo interattivo tutto per voi molto particolare allora l'interattivo è le quattro regine troverò l'amore vi spiego cosa come voglio intendere questo interattivo allora quando io dico le quattro regine troverò l'amore faremo sapete benissimo che ogni regina del seme corrisponde a un segno aria terra acqua o fuoco quindi voi dovete scegliere la regina che appartiene al vostro segno allora io brevemente vi dico come le regine vi ricordo i segni allora la regina di spade parliamo di un segno d'aria quindi bilancia gemelli acquario quindi se siete di questi segni dovete scegliere la prima regina quella di spade seconda regina la regina di denari segno di terra quindi parliamo capricorno vergine e toro terza regina un segno d'acqua quindi cancro pesci scorpione quindi infine ultima regina segno di fuoco sagittario leone ariete quindi dovete scegliere la regina corrispondente al vostro segno e dopo di che io con i miei tarocchi oggi mi servirò dei rider white dei tarocchi di marsiglia nuovi di zecca che ho appena preso quindi insomma devono essere come dire inaugurati poi le sibille italiane le sibille francesi quindi noi faremo una linea per vedere un attimino diciamo cosa portate come passato nella vostra vita in modo che potete anche così capire meglio poi se troverete l'amore e poi faremo direttamente la domanda quindi troverò l'amore ovviamente il video non è molto lungo perché è una domanda più o meno secca allora io parto subito dalla prima variante la regina di spade quindi vi ricordo la regina di spade e bilancia gemelli acquario quindi benvenuti a chi ha scelto la regina di spade allora andiamo a vedere subito la regina di spade che cosa ci dice per quando riguarda appunto diciamo che che cosa porta più o meno la regina di spade nel suo passato allora intanto voglio dire che la regina di spade è una donna che presumibilmente ha un carattere molto forte è una persona intelligente con una memoria di ferro una memoria anche una molto aperta diciamo mentalmente indipendente libera considerata la vedova perché infatti lei è molto diciamo come posso dire anche severa su se stessa no molto esigente per cui lei preferisce stare da sola se non sta bene come dice lei quindi questa è una donna comunque come vi dicevo che lotta molto mentale ecco nei pensieri molto logica però con un animo puro allora andiamo a vedere questa regina di spade che informazione porta del suo passato prima di approcciarsi a questo a questo nuovo amore allora andiamo a vedere qui viene la carta del gli uccelli capovolta quindi in questo momento difficile per la regina perché ha scelto la regina di spade per chi è un segno d'aria parliamo di appunto cose difficili che ci sono che sono successe evidentemente qui c'è stato in un rapporto una incapacità di decidere qui c'è stato probabilmente delle cose difficili che appunto hanno portato ad una anche ad un allontanamento diciamo così voi siete una persona che vi fidate molto che volete l'amore nella famiglia volete i figli insomma volete una stabilità vedete esce la carta del dell'albero però evidenti ma evidentemente questi sogni che voi volete vedete qua c'è la luna i vostri sogni non si sono realizzati perché perché avete avuto una situazione di incomprensioni di discussioni anche diciamo di situazioni futili superficiali che non mi hanno permesso di poter realizzare questo sogno quindi voi vi siete isolate questo è molto tipico dei segni di aria vi siete isolati e perché perché dovevate decidere quindi avete fatto una sorta di riflessione dice io mi voglio isolare un attimino voglio capire qual è il mio problema insomma qual è il problema che io appunto non riesco a trovare quest'amore come voglio io ripeto la regina di spada è sempre una donna che vuole che le cose vadano come dice lei quindi avendo voi l'idea avete l'idea che siete un po sfortunati nei rapporti diciamo impegnativi cioè nei rapporti stabili nei rapporti solidi quindi andiamo adesso a vedere con le altre sibille che altro ci vogliono dire queste carte andiamo a vedere che ci dicono queste sibille una carta e la mettiamo ecco vedete voi avete avuto a che fare con una persona molto piena di sé molto vanitosa questo avete avuto questa attrazione nei confronti di questa persona è anche una sorta di dipendenza questa persona si è allontanata da voi quindi avete avuto un successo parziale perché insomma avete sì all'inizio è stato magari una cosa bella però non avete avuto diciamo quello che bene o male vi aspettavate vedete dal vostro da questo rapporto cioè volevate una gran consolazione c'è un una riuscita soddisfacente dopo tanto tempo che magari aspettavate questa persona e invece avete avuto un successo vedete una consolante sorpresa è un successo però comunque parziale non successo inferiore alle aspettative quindi voi comunque venite fuori da una situazione dove presumibilmente ci sono state delle relazioni diciamo così dovute un po a un rapporto probabilmente superficiale ecco chiamiamolo così andiamo a vedere adesso con i red and white oddio qua escono tutte le carte andiamo a vedere quindi questa persona questa regina di spade questo segno d'aria troverà l'amore troverà l'amore questo segno d'aria vediamo se troverà l'amore questo segno d'aria prenderemo cinque carte dei tarocchi e cinque carte degli altri tarocchi qua abbiamo un sette di coppe quindi qua ci parla sì di un desiderio di una voglia di stabilità ecco vedete qua le carte vengono bene mi dicono a favore quindi cosa c'è c'è che voi incontrerete sicuramente ci sarà per voi un re di bastoni vedete re di bastoni voi venite come una regina di coppe innamorata vedete c'è la carta del sole e c'è anche la carta della stabilità quindi questa variante è positiva anche se ci saranno degli ostacoli prima di arrivare a ciò però comunque questi ostacoli saranno sicuramente comunque saprete reagire con esperienza e con saggezza a questi ostacoli andiamo a vedere adesso che altro ci vogliono dire i tarocchi di marsiglia riguardo a questa domanda quindi troverete l'amore quindi vediamo se convalidano questa diciamo prima stesa delle sibille dei altri tarocchi e soprattutto se ci danno qualche altra informazione in merito andiamo a vedere come carta di fondo mazzo esce e i conflitti esce un 6 di spade ci parla di conflitti di ansia e di stress quindi vediamo qua c'è l'avvenimento vedete c'è la luna c'è il 3 di bastoni c'è il 3 di denari è la carta dell'amore vedete allora qua si parla proprio vedete di amore la carta dell'amore quindi qua ci sarà un rapporto amoroso comunque una scelta d'amore allora vediamo cosa ci dicono queste carte allora intanto l'energia comunque è di conflitti di ansia e di stress vedete voi dovete un attimino ripulire la vostra energia e quindi dovete stare un po così insomma fare attenzione a questo ripulire l'energia dovete essere tranquilli perché qua vedete c'è la carta dell'asto di bastoni che ci parla di un avvenimento quindi qua per voi un avvenimento un inizio vedete questa è la carta dell'inizio quindi c'è un'azione un qualcosa che deve venire voi avete sempre l'impianto di qualcosa del passato vedete questa carta ci parla di nostalgie insomma siete stati delusi e avete voi tendenza ad illudervi quindi avete un po paura di buttarvi in questo nuovo rapporto e perché perché siete stati molto ingannati vedete avete i dubbi inganni dubbi di fidenza comunque diciamo che nonostante ciò questa carta ci dice che è venuta alla fine di questo momento negativo quindi qua tutta la situazione sta avendo un riepilogo diverso qui ci sarà sicuramente vedete anche il 3 di denari che viene fuori ci parla di collaborazione per costruire insieme quindi favorevole a tutti a tutto quindi 3 di denari e carta dell'amore ragazze voi l'amore che ha scelto cioè che ha scelto chi fa parte della regina di spade segno d'aria e l'amore lo troverà nonostante lei abbia abbastanza sofferto in questo diciamo nel suo periodo diciamo di passato però troverà comunque è l'amore quindi questa era la regina di spade questo passiamo alla regina di denari benvenuti alla regina di denari segno di terra capricorno vergine toro allora intanto che io mischio e le carte vi voglio parlare un po di questa regina la regina di terra di denari è una donna raffinata elegante ricca dentro e cioè è ricca in spirito voglio dire scusatemi è ricca come personalità una donna elegante ricca nobile indipendente eccetera potrebbe però spesso essere diciamo spiritualmente e sola proprio perché è una che ha anche una spiritualità molto diciamo profonda e fa difficoltà a trovare appunto diciamo persone che la possono capire è un segno molto affidabile è una persona che da molto dona molto tutta se stessa e spesso non viene ricambiata come dovrebbe allora andiamo a vedere quindi che ci dicono le carte su questa situazione quindi se questa regina di denari questi segni di terra capricorno vergine toro incontreranno l'amore allora qua c'è una carta di successo quindi qua la carta diciamo di fondo mazzo quindi qua già andiamo a vedere che gli ostacoli ci sono stati e sono stati tanti è perché qui abbiamo le nuvole però qua già c'è un miglioramento una guarigione qua ci si è messi in attesa in attesa di cosa in attesa di un incontro di qualcosa di nuovo perché qua c'è stata vedete per voi una rottura vedete la carta del della falce ci parla di una rottura per cui questa situazione si è interrotta ovviamente nella prima linea vi parlo di una situazione ovviamente che voi avete avuto come l'ultima situazione amorosa che voi avete avuto no facciamo un escursus come ho fatto con la prima variante quindi ci sono stati dei conflitti caratteriali che vi hanno portato a questa rottura però voi qui siete in attesa avete già un miglioramento siete in attesa di un incontro di qualcosa che nasce con la carta della cicogna vedete infatti qua già ci sono delle conversazioni quindi qua c'è un ladro e voi avete conosciuto un ladro una persona molto gelosa che vi ha abbandonato voi volevate una famiglia volevate una stabilità volevate un guadagno e invece questa persona se l'è data a gambe e anche se entrambi avete un attaccamento esagerato comunque questo è la situazione qui c'è stato diciamo questa perdita l'attaccamento è forte è difficile fare andare via questa persona però voi ci state provando siete state voi ad abbandonare vedete la carta dell'abbandono è il miglioramento vedete l'attesa l'incontro la nascita di cose nuove voi volete una famiglia volete un guadagno questa persona non ve lo poteva dare perché non era proprio in grado dato che evidentemente si mostrava in maniera ingannevole perché si è uscita la carta del ladro è la carta del disperato per gelosia nel senso comunque una persona che vive passione effimere una persona piena di dubbi di sospetti perché sapete bene che chi lo fa chi come c'è il la coscienza sporca perché il vero amore deve avere come base principale la fiducia allora vediamo se incontrerete l'amore coloro che hanno il segno di terra qui abbiamo la carta della solitudine vedete la carta del 4 di spade quindi qua c'è un momento di pausa di incertezza aspettate io qui non so dove mettere più le carte quindi per cui ovviamente questo l'avamo già visto dalle sibille e va bene diciamo così vediamo però qui c'è stato un taglionetto quest'imperatore dalla forte personalità proprio molto egocentrico molto concentrato su se stesso si è ritirato vedete astro di spade imperatore in sé di bastone l'eremita ed il mago cioè voi avete avuto a che fare con un narcisista perché vedete l'imperatore mago una persona che poi tendenzialmente tradisce una persona che si allontana di netto senza darvi spiegazioni parlandovi in maniera chiara quindi qua parliamo di una persona che si è allontanata improvvisamente dalla vostra vita dove voi avevate puntato tanto però questo a parte il carattere di questa persona molto autoritario molto rigido come dire una persona molto egoica un manipolatore perché qui abbiamo anche il mago quindi lui voleva la relazione a suo piacimento e evidentemente voi non ci siete stata questa situazione è lui si è allontanato si è allontanato in maniera drastica e voi avete parlato chiaro e lui non ha accettato le vostre richieste ed è andato via quindi adesso vediamo quindi se perché qua continuano ancora di raccontarci questa situazione e vediamo se questa vostra attesa ricordate la carta del della cicogna se questa attesa verrà premiata quindi le regine di terra la regina di terra troverà l'amore qui abbiamo come carta di fondo mazzo un set di spade ribadisce ancora di più questa situazione di tradimento che ha perseverato questa persona nei vostri confronti parliamo del vostro passato allora qui abbiamo l'appeso capovolto è la torre capovolta la forza capovolta o signore dio lasso di denari meno male a meno una carta è uscita buona e poi abbiamo il 9 di bastoni allora qui la situazione è un po ingarbugliata allora benché voi insomma siete lì in attesa paziente ad un incontro a qualcosa qui purtroppo le carte mi dicono che per voi non ci sarà non troverete l'amore ovviamente qua parliamo di un massimo da qui a tre mesi to tre mesi quattro non è per tutta la vita però da qui a tre quattro mesi non c'è nulla per voi perché perché voi vedete questa separazione questi sentimenti vissuti mali con l'appeso capovolto vi porta proprio a stare è un senso di infelicità un senso di crisi voi ancora non avete superato la separazione non avete superato questa situazione vostra del passato quindi questo questa torre vedete che vi ha comunque ribadisce quali infelicità voi state proprio male state soffrendo per questa situazione perché questa persona con voi è stato veramente una persona insensibile egoica qua parla di vanità di arroganza questo è stato un narcisista questa è una una variante di coloro che hanno incontrato un narcisista se non avete incontrato nel vostro passato diciamo prossimo un narcisista non è la vostra variante perché qua si parla proprio di un narcisista ovviamente però voi siete una persona molto ostinata testarda quindi anche se in questo momento avete abbassato le difese perché vedete con la carta del 9 di di bastoni non state bene ci sono stati questi fatti penosi che vi creano ostacoli però comunque qui una carta di come dire un miracolo avviene con questo asso di denari e nonostante questa situazione magari non subito ripeto da qui a tre mesi non ci sarà questo incontro però intanto vi stanno andando bene le cose lavorative perché questa carta ci parla di opportunità lavorativa quindi probabilmente ci sono stati dei soldi in arrivo insomma un po di fortuna nell'ambito lavorativo infatti come si dice no fortunato al gioco sfortunato in amore ecco e questa carta ci dice proprio questo però vi dice anche che comunque un po più in là perché adesso qui c'è una situazione troppo chiusa per voi dovete prima come dire dovete rigenerarvi dovete togliervi di dosso tutta questa energia molto forte qui abbiamo tanti arcani maggiori abbiamo 1 2 3 4 5 6 arcani maggiori su 10 carte quindi questa situazione è stata molto pesante per voi molto 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 però vi posso garantire che comunque ci saranno dei risvolti intanto lavorativamente è stato andando proprio bene anche perché la regina di denari è una donna in gamba una donna che appunto è proprio una regina ricca perché è anche molto creativa ma comunque con l'asso di denari ci parla anche di qualche incontro però un po più in là perché ripeto l'energia vostra ancora è un po sporca quindi dovete come dire liberarvi di questo individuo allora oddio terza variante andiamo qui subito alla regina di coppe benvenuti a chi ha scelto la regina di coppe ok allora mettiamo questa regina qui allora io mi sono dimenticata negli altri due varianti di dire le mie raccomandazioni di rito cioè che gli interattivi sono energie generali insomma che non possono risuonare su tutti eccetera eccetera lo sapete benissimo però io ve lo rinnovo per cui prendete tutto con le molle anche se questo insomma voglio dire sapete come funzionano gli interattivi poi ovviamente mettetemi like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto insomma voi siete bravi sapete sapete già tutta la parliamo un po della regina di coppe la regina di coppe una donna molto dolce devota molto materna affascinante per la sua spontaneità e per la sua naturalezza è una persona anche molto affettuosa come dicevo che sa dare molto amore in genere una donna è una sposa devota e può essere anche ingannata perché comunque lei è molto legata alla famiglia è molto diciamo sensibile lei dotata per l'amore e quindi può anche sopportare delle situazioni diciamo non positive per la sua vita sentimentale allora la regina di coppe e segno dato abbiamo detto cancolo pesci scorpione vediamo se questa regina troverà l'amore qui abbiamo fondo mazza abbiamo un chiarimento sentimentale una cassità allora in questo momento voi proprio niente non ne volete sapere venite fuori da una situazione di rimpianto vedete vi siete forse allontanata avete fatto un viaggio qualcosa per dimenticare una situazione che diciamo non vi ha fatto stare bene vedete qua ci sono stati dei falsi amici degli errori abbiamo la carta dei topi anche se voi desiderate che i vostri sogni si realizzano perché siete comunque vedete qua esce proprio la donna innamorata è come se fosse la regina di coppe questa carta nel nel sibille francese perché la dama quindi la dama che è una donna amica una donna amica sincera alleata potente insomma siete voi la regina quindi voi avete questa idea di magari allontanarvi fare un viaggio qualcosa per poter levarvi questo rimpianto che avete riguardo appunto l'impianto malinconia riguardo a questa carta del diario capovolta quindi come se i vostri il vostro se sia stato proprio come dire lo abbia lo come se qualcuno lo ha fatto soffrire questo se vostro nascosto no questo vostro se nascosto quindi c'è molta malinconia vediamo che altro ci dicono allora qua vi sentite come di stare in pigione vedete impossibilità di agire eh sì avete conosciuto questo gran signore un uomo molto affascinante che all'inizio vi ha dato comunque un qualcosa ve l'ha data che qua viene la carta delle pietre preziose però lui carattere molto duro è una persona dipendente anche qua c'è una sorta di dipendenza fra voi e questa persona e però insomma questa persona vi faceva stare bene per cui voi adesso siete ancora diciamo così un po impossibilità di agire perché avete ancora questa siete ancora diciamo dipendente da questa situazione perché comunque questa persona anche se lo vediamo qui che ci appare come un militare come una persona molto dura no molto un rapporto molto diciamo anche autoritario verso di voi però questa persona vi faceva stare bene vi dava dei momenti di allegria vedete il gran signore allegria e il gran signore quindi comunque voi stavate bene e quindi adesso vi sentite un po prigionieri di questo ricordo andiamo a vedere con i tarocchi ecco come carta di fondo mazzo ci viene qua l'asso di bastoni quindi qua un inizio di una situazione c'è quindi alla domanda troverò l'amore già abbiamo il 9 di coppe abbiamo l'eremita e l'appeso scusatemi abbiamo il giudizio la carta del della del mondo e il 5 di spade allora vedete qua voi comunque avete proprio chiuso un ciclo vedete qua probabilmente ci potrebbe essere anche vedete la possibilità di un ritorno di una persona cara ecco questa persona che voi ancora bene o male ci avete nel cuore nonostante insomma sia stata una persona un po così voi non riuscite totalmente a liberarvi di questa persona però io vedo qua anche che voi siete una persona che comunque state bene con voi stessi in questo momento perché il 9 di coppe me lo dice quindi voi state bene avete non so la famiglia dei figli un qualcosa che vi fa stare bene quindi voi potete tranquillamente anche rimanere single per un po cioè non è un problema per voi voi avete bisogno qua proprio di rinascere la nuova vita perché qua c'è sì la possibilità che questa persona possa ritornare però voi sicuramente volete interrompere questo ciclo perché questa persona vi creava infelicità quindi qua parliamo di una persona che comunque ecco qua qua guardate proprio quando uno dice le le sincroni la sincronicità delle carte noi stiamo parlando della regina di coppe ok stiamo analizzando il segno di acqua e che cosa viene fuori come energia di fondo mazzo un'altra regina di coppe vedete una persona empatica appunto che segue il cuore sincera saggia dolce amabile e fedele questa siete voi quindi voi ancora probabilmente portate nel cuore questo questo individuo e infatti è qua ce lo dice ce lo dice proprio qua eccolo qua l'imperatore è che ve lo dica a fare è che ve lo dica a fare questa persona abbia ferito molto questa persona vi ha probabilmente anche bloccati ci sono state delle difficoltà questa persona questa persona ha difficoltà come dire a lasciare però è una persona interessata solo al denaro il denaro che domina la sua testa vedete anche 9 di coppe ci parla comunque di desideri che si si realizzano sia il si realizzano ma ci parla anche di stare bene da soli il piacere la gioia di stare bene da soli quindi qua ragazze io non vedo che voi incontrate un amore benché voi lo desiderate perché qua vedo una sorta di anche se aspettate scusatemi mi riprendo perché qua c'è il papa vedete non avevo visto il papa il papa comunque è un assenso cioè il papa è appunto una persona a domanda risponde se il papa l'assenso è sì quindi troverete un amore sì però il problema è che voi non lo troverete subito è un po come l'altra regina di denari perché qua voi avete bisogno di risanare le ferite ne avete troppo troppe difficoltà avete avuto questo uomo questo uomo amato vedete questo uomo potente calcolatore dal fascino per carità però era proprio ostinato una persona persone molto ostinate molto prepotenti che vi hanno comunque portato a questa sofferenza quindi benché voi sicuramente ci sarà un desiderio una realizzazione però per il momento state bene da soli cioè vi basta questa stare bene da sole anzi le carte vi dicono proprio che voi da questo stare bene da sole che rinascerete a nuova vita qui una protezione dall'universo c'è per voi perché voi siete una donna buona e quindi meritate sicuramente di avere questa realizzazione nei sentimenti quindi a questa variante diciamo che ancora siete anche voi un po vittime del passato però per il momento state bene anche così troverete sicuramente l'amore però dovete prima comunque come dire c'è per voi qualcosa dal cielo però dovete aspettare che in maniera divina si si compia questa cosa allora qui abbiamo la regina di coppe quindi se vi è piaciuto mettetemi un like se vi siete riscontrati e tutto non siete ancora iscritti al mio canale fatelo allora qui abbiamo la quarta e ultima regina la regina di bastoni segni di fuoco sagittario leone ariete ok quindi andiamo a vedere subito con le sibille francesi che cosa ci produce questa regina la regina di bastoni è una donna molto attiva una buona sposa appassionata spensierata una donna anche disinibita insomma che molto indipendente anche lei comunque una donna molto passionale dove le mette al primo posto appunto questa sua grande passionalità segno di fuoco sagittario leone ariete allora qui anche qua ci sta una sosta questa regina è stata fermata da che cosa anche lei ci sono state dei conflitti caratteriali con una persona del passato dove ci sono state i digi insomma discussioni un qualcosa che ha portato alla chiusura vedete la bara quindi nonostante diciamo che ci siano stati questi conflitti caratteriali c'è stato proprio questo compromesso perché abbiamo proprio la sosta no il sentiero capovolto però qua c'è la chiave di guarigione c'è perché voi siete fortunati vedete siete protetti vedete la carta del del crocifisso quindi avete questa protezione che vi viene dall'alto e quindi avete la chiave vedete la chiave per poter migliorare per poter avere questo miglioramento andiamo a vedere le sibille italiane che atto ci dicono qui abbiamo l'amante quindi già qui qualcosa si muove andiamo qua qui anche qua esce la superbe dottore la fortuna il pensiero la donna di servizio vedete anche voi purtroppo siete state come dire vittime di un qualcosa o un qualcuno che vi ha portato che si è approcciato a voi con molta arroganza con vanità una persona comunque che vi ha fatto in qualche modo soffrire voi invece ecco qua molto appassionata proprio l'amante esce che insomma è molto sincronica con la regina di bastoni siete stata veramente male per questa persona perché questa persona vedete mi esce come il pavone quindi una persona molto piena di sé molto arrogante che ha un po' giostrato questa situazione con voi però voi avete avuto vedete comunque un colpo di fortuna a capire con la riflessione e il pensiero che appunto per voi per lui non eravate granché cioè nel senso qua viene la donna di servizio quindi lui vi utilizzava a suo piacimento quando gli faceva comodo per cui voi siete state brave cioè probabilmente è successo un qualcosa un evento inaspettato che vi ha fatto capire questa cosa e quindi vi siete giustamente allontanate vediamo adesso se qui troverà l'amore la nostra regina di bastoni vediamo se la regina di bastoni riuscirà a trovare l'amore qua intanto abbiamo un cavaliere di denari quindi qualcuno che vi porta un dono sicuramente lo trovate anche se in maniera lenta allora qui parliamo di una persona che probabilmente verrà verso di voi perché vedete voi avete proprio con la carta della giustizia dovete necessariamente avere giustizia in questa domanda quindi ci sta un cavaliere di denari che sta avvenendo verso di voi quindi ci sono notizie in arrivo con il fante di spada arrivano queste notizie arriva questa persona che vi porterà appunto c'è in arrivo un qualcosa di anche di veloce questa persona però ha un carattere un po autoritario qua mi viene un imperatore con il mago allora l'imperatore è una persona molto importante magari ha anche una come dire un lavoro un qualcosa magari una persona che ricopre un ruolo molto importante nella vita però è anche una persona molto rigida però sicuramente vorrà iniziare con voi un qualcosa perché il mago ci parla anche di un incontro a un inizio di relazione però con questa persona voi sarete molto chiare vedete cioè non vi farete più prendere in giro come da quella precedente perché quella vi ha creato vedete la stessa si apre con il 6 di spade anche in questo caso che ci parla di conflitti e di ansia di stress quindi voi volete appunto che questa persona conoscete questa persona che tra l'altro molto attraente e sarà anche un incontro carmico ragazze qua è un grande amore ve lo dico subito e le carte sono molto belle guardate verrà verso di voi un cavaliere di bastoni veloce appassionato anche molto attraente che vi porterà gioia 3 di coppe incredibile questa stessa la carta della fortuna quindi un incontro cambiamento positivo fortunato e a un progetto e che ve lo dico a fare asso di coppe 2 di coppe cioè qua non incontrerete un amore non incontrerete incontrerete l'amore qua incontrerete il grande amore l'amore fatale l'amore di anime non gemelle di fiamme gemelle cioè quelle che si incontrano e non si lasciano più quindi veramente complimenti perché ha scelto cioè perché ha scelto per chi è la regina di bastoni per chi ha la fortuna insomma questo segno appunto dico sagittario leone ariete evidentemente è il vostro momento fortunato quello di incontrare l'amore ed è in effetti è vero una mia amica che è segno del del appunto del fuoco e ha incontrato una persona molto positiva per la sua vita un grande amore quindi è vero le segni di fuoco sono fortunate in questo periodo quindi qui come partiamo dal dall'inizio le quattro regine io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando fatemi sapere nella community quello che ne pensate insomma se vi siete riscontrate mi raccomando per coloro che si sono approcciate per la prima volta nel mio video se vi fa piacere vi volete scrivere o mi regalate un like è l'unico sostentamento di questa appunto di questa di questo interattivo quindi io vi ringrazio vi mando un bacione e al prossimo video ciao